Stasera Giarre tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale, da votare l'atto di indirizzo sui liberi consorsi per avviare poi la procedura per la costituzione di un consorzio che veda Giarre Comune capofila. Una strada che si annuncia quando mai in salita, anche perché la proposta che il Consiglio Comunale si appresta a votare stasera è quanto mai un ibrido, perché comprende il progetto base del Taormina Ionio Etna, ma vorrebbe arrivare fino a comprendere Nicolosi, Pedare e Trecastagni. Il sindaco Roberto Bonaccorsi ha osservato i lavori delle commissioni e ha posto quale unica condizione il fatto di vedere Giarre Comune capofila, anche se l'iter per la costituzione di un libero consorzio sarà poi un'altra cosa.